Buongiorno a tutti amici rossoneri e non bentornati sul canale di Briga il Milanista mi raccomando iscrivetevi al canale e spingete sistematicamente sulla campanellina altrimenti non verrete avvisati dei nuovi video se avete piacere di seguirli allora stamattina mi sono svegliato presto ho cercato di fregare sul tempo l'amico Carlo Pelegati idolo da sempre Carlo Pelegati che sistematicamente alle 7 di mattina esce col suo primo video della giornata Carlo ma non butta chiù su non riesci a dormire c'è roba che è fatta c'è altri altri per fare questi video non è che vai a funghi vai a funghi la mattina è stanno la funghi a Milan vabbè dai tanti saluti all'amico Carlo niente analisi e commenti di questo turno infrasettimanale Napoli Atalanta pari 2 bellissima partita accesa molte polemiche Ancelotti è espulso di qua di là a primo impatto è sembrato anche a me un furto quello subito dal Napoli ma a quanto pare il primo fallo è stato fatto da Llorente sul difensore dell'Atalanta anche se il difensore dell'Atalanta c'è da dire che del pallone si è disinteressato completamente affossando comunque subito dopo Llorente sullo sviluppo dell'azione poi l'Atalanta ha trovato il gol del pareggio quindi apriti cielo comunque pareggio per l'Atalanta che si conferma una squadra informissima è ormai una certezza di questo campionato Cagliari-Bologna 3 a 2 il Cagliari a pari punti con il Napoli e con la Lazio a dimostrazione che quando si lavora bene anche sul mercato i risultati arrivano l'esperienza di Nengolan, un giocatore pronto come Nandez che è arrivato dal Boca Juniors Simeone che ha sostituito l'infortunato Pavoletti là il Cagliari, una bella squadra, sta ritrovando bei risultati Juventus-Genua 2 a 1 come al solito un arbitraggio di manica larga a favore della Juve un'espulsione veramente eccessiva quella effettuata su Cassata del Genoa poi c'è stato il gol annullato a Cristiano Ronaldo e lì sembrava che la partita fosse finita sarebbe stato il secondo pareggio consecutivo contro una squadra piccola per la Juve sarebbe scricchiolato qualcosa e invece ci ha pensato lui Cristiano Ronaldo CR7 che nonostante il gol annullato subito dopo è riuscito in un'azione personale a prendersi il rigore l'ha segnato ovviamente rigore anche lì generoso ma comunque il fallo c'è stato lo sgambetto a quanto pare c'è stato Lazio-Torino 4 a 0 Torino in caduta libera la Lazio si è ripresa Torino nel ponte ce l'hanno detto solamente ne ho solamente ne ho già potuto vedere il ponte Torino sono fracchietta che è proprio la pitta di Cristi Mazzarri in balia delle onde Sampdoria-Lecce 1 a 1 per fortuna come avevamo detto avevamo sperato in un pareggio Sampdoria-Lecce hanno pareggiato 1 a 1 adesso rimangono sotto il Milan Sassuolo-Fiorentina 2 a 1 per la Fiorentina diciamo contro il Sassuolo fuori casa anche lì buona sconfitta del Sassuolo che rimane dietro il Milan Udinese-Roma 4 a 0 per la Roma a Udine anche qui all'Udinese lo ponte ce l'hanno detto solamente ne ho l'Udinese contro di noi sembrava una squadra quest'anno bella pimpante Arzilla Citlovade la Roma passeggia a Udine addirittura in 10 dalla mezz'ora del primo tempo in 10 dalla mezz'ora del primo tempo ne fa 4 questo per sottolineare le partite vergognose che abbiamo fatto noi in 10 contro 11 che sembra che quando una squadra rimane in 10 contro 11 quando stava Gianpaolo la prima cosa che faceva toglie l'attaccante con la difenza guarda in gas cose dell'altro mondo in casa con la Fiorentina in 10 contro 11 toglie l'attaccante con la difenza tutto ne si scelta ma non mi ha fatto un caccio non so niente siamo nanzi quindi Udinese male 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 anche qui Tudor mi muoveva pure bene buona rida non c'è male fracchette andiamo a noi stasera gioca il Milan partita di cartello Milan spalla a quanto pare non voglio vediamo se è vera questa voce che si sta rincorrendo ieri sembrava ancora confermato su uso si parlava di diciottesima partita consecutiva da titolare da titolare invece a quanto pare Castiglieco sta diciamo cercando di fregargli il posto per questa partita Castiglieco mi raccomando c'hai una grossa opportunità fatti notare gioca bene mi raccomando per un'altra cosa mettete l'opetta dentro la cappella e dentro la palla che non voglio quando io vi ho visto la data a come fare con il pallone che vengono qui quanto pare Castiglie 58-60 ma che tipo di dieta hai fatto facetemi capire che voglio perdere 5-6 kill mannaggia comunque speriamo bene oggi speriamo bene oggi dovrebbe giocare Duarte al posto di della copiata magica Calabria-Conti cadde ormai non si ha che la soluzione coda addirittura ha messo un centrale a fare il terzino anche se oggi dovremmo giocare con una difesa più a tre più bloccata dietro e a centro campo dovrebbe giocare Benazer al posto di Biglia anche lì mi raccomando Ismael facci vedere di cosa sei capace di fare partita fondamentale stasera inutile dirlo di nuovo fondamentale mi raccomando stasera per il dopo partita seguitemi e niente buona giornata ragazzi mi raccomando lasciate un like condividete se ne avete il piacere iscrivetevi al canale forza lotta e vincerà non ti lasceremo mai